I dettagli sull'inchiesta Mosaico 2, sostenuta dalla squadra mobile di Agrigento, l'elenco integrale degli indagati contestati presunti traffici di droga e di armi. La squadra mobile di Agrigento, capitanata da Giovanni Minardi, il 15 settembre del 2020, è stata impegnata nell'operazione intitolata Mosaico. Sette arresti nell'ambito soprattutto di una sanguinosa faida, insorta a cavallo tra Favara e il Belgio, a Liegi. Nel corso delle indagini i poliziotti ampliarono il raggio di osservazione e tramite pedinamenti e appostamenti hanno scoperto altro, tanto che adesso è scattato un secondo blitz mosaico. La procura ha gettato sul tavolo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento 26 nomi e condomi, con diverse proposte di misure cautelari. Il giudice Giuseppe Miceli ha firmato tre arresti e un obbligo di dimora. Agli altri 22 è stato notificato un avviso di garanzia. Sono stati ristretti ai domiciliari favaresi Gerlando Russotto, 32 anni, Stefano Di Maria, 30 anni, e Luigi Derriu, 37 anni. Russotto è stato già condannato in primo grado a sei anni di reclusione alla processo Mosaico 1. Stefano Di Maria invece è stato arrestato e poi assolto con sendenza definitiva nell'ambito dell'inchiesta antimafia Montagna. L'obbligo di dimora è stato imposto ad Antonino Sortino, 27 anni, di Favara. Sono contestati i presunti traffici di sostanze stupefacenti e di armi. Tra i 26 indagati vi sono Alessandro Puntorno, 53 anni, di agrigento, già arrestato nel 2009 e nel 2011, nelle operazioni antidroga House Delivery e Trifoglio, beccato tra l'altro al porto di Palermo appena fuori la nave proveniente da Genova, con un chilo di cocaina purissima e 100 grammi di hashish. E poi Ignazio Sicilia, 46 anni, di Favara, arrestato nel 2005, nell'ambito dell'inchiesta antimafia San Calogero, condannato a 12 anni di reclusione e poi scarcerato nel 2015, dopo 10 anni, grazie alla liberazione anticipata. E poi Filippo Russotto, 47 anni, di Favara, ex fidanzato di Jessica Latuca, 31 anni, di Favara, di cui non vi è più traccia, dalla 12 agosto del 2018. E il fratello di lei, Vincenzo Latuca, 42 anni. Ecco gli indagati. Gerlando Russotto, 32 anni, di Favara, Calogero Greco Gambino, 29 anni, di Favara, Salvatore Sicilia, 39 anni, di Favara, Ignazio Sicilia, 46 anni, di Favara, Filippo Russotto, 47 anni, di Favara, Ignazio Agrò, 63 anni, di Racalmuto, Gioacchino Domenico Lo Giudice, 35 anni, di Canicattì, Salvatore Alba, 38 anni, di Favara, Nicola Chiarelli, 26 anni, di Sommatino, Salvatore Chiarelli, 55 anni, di Sommatino, Alessandro Puntorno, 53 anni, di Agrigento, Salvatore Fortunato, 22 anni, di Agrigento, Salvatore Butticei, 33 anni, di Favara, Emilio Nobile, 27 anni, di Favara, Salvatore Greco, 22 anni, di Favara, Vincenzo Lattuca, 42 anni, di Favara, Salvatore Matina, 34 anni, di Favara, Antonino Sortino, 27 anni, di Favara, Sharon Sortino, 27 anni, di Favara, Giusy Mendolia, 26 anni, di Favara, Calogero Cusumano, 34 anni, di Favara, Michele Amato, 48 anni, di Canicattì, Antonella Farabino, 51 anni, di Favara, Stefano Di Maria, 30 anni, di Favara, Giovanni Sortino, 54 anni, di Favara, Luigi Derriut, 37 anni, di Favara, 37 anni, di Favara.